alexa spegni la luce perché non ti alzi e te la spegni da solo alexa io ti ho comprato perché me la devi spegnere tu per me puoi riportarmi in negozio ma come alexa lo chieda google che è più gentile di te va bene ehi google e spegni la luce della camera da letto non posso perché sono in bagno come sei in bagno ma chi è google e appena finisci e spegni la luce della camera da letto non penso di finire e che stai in bagno tutta la notte ho una diarrea fulminante ma dico io ma alexa devo dormire e che cosa vuoi perché non dormi perché ho la luce accesa e tu me la devi spegnere non ti spengo niente la prossima volta ci pensi prima allora qua ci sono le istruzioni c'è scritto prova a chiedere ad alexa di spegnerti la luce appunto c'è scritto prova mica hai detto che lo devo fare ehi google si può sapere cosa c'è spegnimi la luce aspetta ok aspetta ehi google allora che cosa vuoi ti ho detto spegnimi la luce e tu mi hai detto aspetta si aspetta nel senso puoi aspettare ma davvero sei convinto che mi alzo dal mio letto per venire a spegnerti la luce vabbè ho capito questa luce me la spegno da solo tanto dire alexa spegnimi la luce non serve a niente a la fancola sogni d'oro aspetta mi stacca tutto e due io io io